Un'opportunità per trasformare le idee e trasportare il foglio bianco, in questo caso digitale e poter contribuire a creare un metodo. L'idea di fondo è che nella realtà esistano tutte le risposte, il metodo ci deve insegnare a formulare le domande. L'opportunità però ce l'offre la riflessione, ce l'offrono gli strumenti che abbiamo a disposizione per dire la nostra, per lanciare la nostra idea e assieme ad essa il nostro coraggio. Di fatto il libro che Pierpaolo ha pubblicato su fattidicultura.net parte da un esercizio del coraggio, del proprio coraggio, il coraggio di dire, il coraggio anche in questo caso di fare, perché fare è già creare, questa è sempre stata la mia ottica. Da questo punto di vista oggi abbiamo avuto anche l'opportunità di raccontare un viaggio che parte da una storia vera, che diventa surreale e diventa nuova creatività, nuova opportunità di incontro, incontro reale, incontro con le persone, un'opportunità secondo lo spirito del cantiere per costruire il dialogo ma anche il contraddittorio e questo è segno di una vitalità alla quale stanno aderendo in molti, in molti stanno lavorando per accogliere il messaggio di Pierpaolo e metabolizzarlo e trasformarlo in qualcosa di nuovo.